Dopo tre anni ritornano disponibili i corsi al vivo a Milano direttamente con me, Luca, fondatore di approcciada.com, ovvero il maggiore esperto in Italia sull'approccio alle ragazze dal vivo di giorno. Per farti vivere un'esperienza unica che ti trasformerà in un uomo top 1%, in grado di finire a letto con qualsiasi ragazza a tu voglia in poche ore, grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale. Dopo aver tenuto oltre 130 corsi al vivo, a dicembre del 2021 ho annunciato che non avrei mai più tenuto i corsi al vivo. Quei corsi al vivo leggendari che hanno fatto ottenere i migliori risultati in Italia nell'ambito dei approcci di giorno. Corsi al vivo che nel 2021 ho deciso di chiudere per sempre, sia per il fatto che non vivo più in Italia, sia per il fatto che non riuscivo più a stare dietro alla troppa richiesta e quindi era il momento di passare la palla ai coach ufficiali. Ma dopo tre anni, a seguito di molte richieste di alcuni studenti, ho deciso di aprire le porte a un'esperienza unica e iper trasformativa per una ristrettissima cerchia di 5 fortunati. E per esperienza unica intendo che non verrà mai più ripetuta, non ci sarà una seconda edizione dove ci potrai iscrivere, magari la prossima sarà fra forse tre anni. Il corso al vivo è ideale per te se ti vuoi finalmente buttare per superare la paura di fare il primo passo con le ragazze, è ideale per te se vuoi diventare un maestro della conversazione e non rimanere mai più senza argomenti con una ragazza, oppure se vuoi iniziare a uscire regolarmente con nuove ragazze ogni settimana e finirci a letto insieme anziché concludere gli appuntenti sempre con un nulla di fatto. I corsi al vivo approcciala.com sono corsi individuali in modo da potersi focalizzare al 200% sul singolo studente in modo da garantire risultati nettamente superiori rispetto a se le attenzioni dovessero venire divise fra diversi studenti. L'80% del corso è parte pratica dove sotto la venguida si andrà insieme a conoscere ragazze dal vivo, mentre il 20% del corso è la parte di teoria e sarà una parte di teoria specifica e personizzata per quella che è la tua situazione, anche perché la parte di teoria principale avverrà prima del corso al vivo, quindi verrai dotato di quello che è il nostro videocorso dell'approccio alla camera da letto che contiene già tutto quanto il sistema per conoscere nuove ragazze al vivo e finirci in camera da letto in modo da prepararti adeguatamente per il corso al vivo, quindi il videocorso dell'approccio alla camera da letto è incluso nell'iscrizione al corso al vivo e se ce l'hai già invece puoi richiedere come bonus in omaggio un qualsiasi altro videocorso nel nostro arsenale dei migliori videocorsi. E un altro dei pilastri fondamentali dei corsi al vivo approcciala.com è che viene insegnato e viene fatto applicare il metodo per la rimozione permanente dell'ansia approccio. Quindi dopo il corso al vivo sarai completamente autonomo e non tornerai più indietro a essere bloccato. Ma questa edizione speciale di corso al vivo con me non è per tutti, il mio tempo è estremamente limitato, quindi è necessario candidarsi. Quindi clicca sul link qui sotto in descrizione se stai guardando questo video da YouTube oppure scorri qui sotto se stai guardando questo video dal mio sito, inserisci i tuoi dati e sarai contattato su WhatsApp da un nostro coach e se verrai ritenuto idoneo avrai la possibilità di parlare direttamente con me per conoscerci prima di iscriverti al corso al vivo. Le iscrizioni chiudono l'1 novembre, ma direi di lasciare la parola direttamente a chi ha partecipato a un corso al vivo direttamente con me negli ultimi anni. Con Luca abbiamo lavorato sulla parte del secondo bar per appuntamento, perché il primo era un instant date, quindi si può considerare per appuntamento, con la ragazza conosciuta il primo giorno in instant date. Diciamo che anche lì guidato da Luca sono riuscito a correggere alcuni punti nei quali ancora avevo difficoltà e a portare prima la ragazza a letto che effettivamente in giro io ho visto sperare solamente da Luca e comunque anche il supporto dato penso che sia più unico che raro, se non difficile è impossibile addirittura da trovare. Ne ho chiuse altre tre, due di giorno e una era una barista di una discoteca. Ad esempio, in praticamente tre settimane sono riuscito a chiudere la mia prima ragazza. Chiudere cosa vuol dire? Per chi non lo sa sarebbe sesso effettivamente chiudere. Quando si prova a fare le cose da soli ovviamente è molto più difficile rispetto a quando si è con qualcuno che ti dà una mano, quindi in soli due giorni ho fatto quello che avrei potuto fare in magari sei mesi, quindi fatevi sto favore a voi stessi, investite in voi stessi. Credo che sia il migliore in Italia per quanto riguarda gli approcci in strada di giorno, perché li ho conosciuti tutti ragazzi e credo che sia, è stata una rivelazione. Ha avuto una media sempre di 3-4 contatti al giorno che ha poi permesso di fare praticamente un appuntamento ogni giorno nei giorni successivi. Mi sono incuriosito all'argomento, non sapevo sinceramente neanche che ci fosse la possibilità di approcciare ragazze di giorno e tantomeno qualcuno che lo insegnasse. Il mio punto di partenza era praticamente zero. Penso di non aver mai approcciato una ragazza in 30 anni, però a fine di prima giornata sono arrivato subito a un instant date, al primo bacio durante il primo instant date, quindi gran successo. Luca è una macchina, non si ferma mai per due giorni, continua a dare input, continua a segnarsi tutto, è professionale nonostante ancora molto giovane, assolutamente affidabile, penso sia un corso che debbano fare tutti. Innanzitutto ti dà più possibilità e più possibilità è nella vita, più probabilità ci sono che tu trovi una persona giusta, tanto meglio che tu sia felice nella tua vita. inoltre, come ci si potrebbe aspettare, ma non è così scontato, soprattutto in questo mercato, devo dire che è stata anche la presenza costante, i tipi di consigli in real time, l'essere seguito, l'essere affiancato, l'essere indirizzato verso comunque situazioni che magari non permettevano al subconscio di trovare scuse per non procedere. Quindi, diciamo, è stato un essere accompagnati, mano nella mano, in quello che era un superare delle lacune che a volte non sono lacune per nostre mancanze, ma sono lacune perché non abbiamo la nostra visione dall'esterno, professionale, che ci permette di individuarle. Devo dire che è pienamente soddisfatto. A me non ci guadagno un cazzo a dirvelo, ma vi parla uno che grazie a Luca ha scoperto in tutto il mondo, se io da quando ho quel tipo di mindset è cambiato tutto, quella cosa che gli fa fare il salto di poi in parte. Ma non mi sentivo completo, vedendo dei suoi video mi sono detto, mi sembra una persona seria e voglio andare a vedere anche lui. Veramente, io pensavo di ricevere un sacco di rifiuti, ma alla fine non ne ho neanche ricevuto uno. Mi sto rivalutando, ho veramente un buon potenziale, i corsi con Luca funzionano. Di lì abbiamo continuato a bere a casa, una bottiglia di vino, grazie alla lezione sul cosa fare in casa. Luca, non ti ringrazierò mai abbastanza per questo, perché è una cosa fondamentale che mi ha fatto svoltare, perché adesso ho capito cosa devo fare. e sono riuscito a chiuderla. Attualmente mi vedo ancora con la ragazza e niente, volevo precisare che io ho perso veramente tanto tanto tempo, tanto tempo nel scaricare video, nel cercare di capire come avrei potuto fare per chiudere una ragazza, per chiudere intendo il sesso. Niente, ho avuto a che fare con i migliori corsi, cioè ho visto i migliori corsi dei migliori pickup artist mondiali, io l'inglese lo so parlare, lo capisco, ma nessuno ti offre un corso passo passo dall'approccio fino al sesso. Ci siamo visti praticamente tutti i weekend, se non ero via io per altre cose, adesso è già sei mesi che stiamo insieme e sembra che sia andata bene. Lo scopo mio di essere venuto qui due giorni non è quello di cazzo vado a Milano, questo mi segna a scopare, scopo in i due giorni qui, ok, non è questo, il problema è essere delle persone migliori. All'inizio non riuscivo a parlare neanche, avevo difficoltà con la conversazione con chiunque, abbiamo lavorato su questo e lì sono riuscito a sbloccarmi con la conversazione, a parlare, a parlare di tutto. Spesso diamo la colpa agli altri per cose che ci succedono, però invece non è così. Se ci succede qualcosa di brutto non dobbiamo stare lì a pensarci sopra, a demoralizzarci, ma dobbiamo costruire qualcosa. Cioè non ci si arriva, ci metti veramente in eternità, senza un metodo, non serve per forza. Il tuo è molto valido, è molto valido veramente. Secondo me, ovviamente in Italia non c'è paragone, non c'è da dire niente. E così alla fine addirittura siamo andati a prendere un caffè e boh, c'è ma assurdo, c'è capisci, c'è ero, c'è ma è successo veramente, poi non so, mi devo ancora a capacitare di questa cosa. Una tizia che non volevo quasi neanche fermare, poi invece ragazzi impegnatevi e seguite Luca. Andiamo a casa, tipo due bicchieri di vino e basta, subito ci mettiamo a letto in maniera quasi automatica e basta, è finita così. Poi me la sono scopata ieri sera fino alle due e mezza, poi ci siamo addormentati, stamattina ci sono svegliati alle cinque, voleva scopare, abbiamo riscopato e poi ci siamo preparati, ci siamo docciati due volte ultimamente. Io non pensavo di poter arrivare così lontano con una ragazza approcciata qualche ora prima, cioè diventa proprio quasi un concetto di mentalità che diventa possibile e io prima non l'avevo mai visto come realizzabile. Consiglio di provare un corso con Luca perché è veramente una cosa diversa da tutto ciò che c'è sul panorama. Lui sa che cosa fa e che cosa dice, perché comunque ha una quantità di ore di esperienza, ho avuto modo di raccontarmi che secondo me nessuno ce l'ha, proprio nessuno. Quindi capisce ogni situazione al volo, capisce come è la ragazza, capisce come ti stai ponendo tu e ti sta a dare proprio i consigli mirati mentre è un po' zero. Cioè la sessione che fa fare Luca è molto specifica perché comunque ti fa fare l'approccio, poi subito lui ti sente tramite il microfono, lui si scrive gli appunti e quando finisci ti correggio. Quindi comunque non puoi continuare a sbagliare. Però comunque c'è da dire, che magari ora ci arrivo dopo, anche se comunque non ho fatto chissà quanti approcci, cioè da ottobre a ora comunque questa è la settima ragazza con cui esco. Io ho un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, esattamente a mia età, quindi fate voi i conti. Questo risultato è stato ottenuto, perché è stato ritenuto secondo me, grazie ai feedback di Luca, feedback a Crudi. Non ci sono sconti ed è accortato che sia così. Io direi che ne vale la pena. È davvero interessante. Ho notato un miglioramento la domenica dalle 5 alle 6. Abbiamo fatto qualche esercizio specifico che ha proprio cambiato il risultato sia di mentalità che di game. E dopo un'ora di lavoro dalle 5 alle 6, devo essere sincero, cioè abbiamo... praticamente non ho preso neanche un no. Comunque sì, Luca, è incredibile. Ti dico, sono veramente contento perché sto facendo delle cose che non ho mai fatto fino ad ora. È tutto più naturale, però ho notato che sono proprio più fluido e prima non ce l'ho mai avuta questa cosa qua. Cioè, è incredibile. Questi sono stati i soldi meglio spesi in tutta la mia vita. Questo corso è stato tipo una rivelazione. Non ho un cazzo da dire. Non c'è niente da dire. Se avete l'occasione, veramente... fatelo. Io lo rifarei tutta la vita. Sono felicissimo, sono leggero. Che dire? Grazie. Quindi se vuoi essere uno dei 5 fortunati che seguirò direttamente in questa edizione speciale di Corsi al Vivo, clicca sul link qui sotto in descrizione se stai guardando questo video da YouTube oppure scorri qui sotto se stai guardando questo video dal mio sito, inserisci i tuoi dati e sarai contattato su WhatsApp da un nostro coach e se sarai ritenuto idonio avrai la possibilità di parlare direttamente con me per conoscerci prima di iscriverti al Corsi al Vivo. Le iscrizioni chiudono l'1 novembre.